La Resurrezione, uno dei capolavori di Piero della Francesca, non sarebbe stata dipinta sulla parete della Sala dei Conservatori della Residenza, oggi sete del Museo Civico e dove tuttora si trova l'opera, bensì in un altro muro dal quale poi sarebbe stata spostata. Un'ipotesi che circolava già da tempo ma che oggi sembrerebbe aver trovato ulteriori conferme, delle quali ovviamente si è parlato nel corso dell'incontro le opere di Piero della Francesca nel Museo Civico di Sansepolcro, iniziativa inserita all'interno del ciclo di incontri dal titolo I Musei di Piero, Piero nei Musei, dedicato al secentenario della nascita di Piero della Francesca. Durante i restauri abbiamo deciso di affrontare la questione sia dal punto di vista documentario, sia dal punto di vista scientifico e diagnostico in senso stretto, sia soprattutto avendo appunto in corso il restauro, potendo agire sulla superficie e non solo sulla superficie, in modo ovviamente non invasivo, per cercare di capire come funzionava la muratura sottostante all'intonaco. E alla fine, avendo avuto la quasi totale certezza con questi sistemi, abbiamo interessato l'Università di Firenze e alcuni appunto professori di geologia che hanno lavorato col georadar, hanno lavorato con le sondi, alla fine hanno fatto un rilievo tale dal quale si può evincere che effettivamente esiste uno scollegamento tra la muratura su cui è dipinta la resurrezione e il resto delle murature circostanti e retrostanti. Siccome però questo paniforte di muratura era molto pesante, abbiamo anche pensato che non potesse venire da molto 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 lontano, probabilmente era una questione di uno spostamento di decine di metri, è uno spostamento antico perché i documenti cinquecenteschi già parlano della resurrezione nel luogo dove è adesso, quindi stiamo approfondendo documentariamente anche la questione di uno spostamento fatto o alla fine, fine, fine 400 o agli inizi del 500. Spostamento che deve essere stato fatto per un motivo che ora non conosciamo ma che stiamo cominciando ad indagare e speriamo di avere una risposta precisa sul luogo e sul perché dello spostamento entro pochi mesi. Paola Benigni, che è una ricercatrice d'archivio, sta collaborando con il nostro gruppo proprio per arrivare a questo risultato.